Rossana Martini. Miss Italia 1946. Eletta nel 1946 a Stresa, è venuta a mancare nel giugno del 1988 a causa di una malattia. Nata a Empoli, in Toscana. Quando vinse il titolo di Miss Italia aveva 20 anni, e riuscì ad avere la meglio su Silvana Pampanini per una questione di una manciata di voti, suscitando le accese proteste del popolo. Il suo debutto nel cinema avvenne con il film I contrabbandieri del mare, accanto a Rossano Brazzi, ma non volle proseguire la sua carriera da attrice, tuttavia non lasciò l'ambiente cinematografico, infatti si unì in matrimonio all'attore e produttore Nino Crisman.